Ma se io guardando Fader impazzisco che continui cambi scena del game Se con gli F1, F2, F3 e F4 Si dà la pazza gioia, pega Oh, è tornato Bene, bene, bene Ok Oddio Adesso non possiamo fare remake, grazie mille letto Thank you very much Hai visto che c'è problemi di connessione, che facciamo? Usciamo dalla base così non possiamo fare remake gli alleati E mi reportano per FK lo stesso Quindi io ho perso lp E ho perso Ho perso, mi sono beccato il report Mentre potevo, e anche tutti i miei alleati Molto buono Non riesco a donare, ma ho qualche bizze da parte Grazie Zanimals Super a lucky Speriamo fix e torni O speriamo ci faccia far rimette però non so Se ce lo fa fare Ok 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 No, no, no Dove è stato sempre freddo però lì, no? No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Quanto manca per questo? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè ho lasciato. Volevo di mt'è per quest'altro ma... Volevo di mt'è. 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 Mt'è. Volevo di 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 mt'è. di mt'è. Volevo 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 di mt'è. di mt'è. Volevo di mt'è. Volevo di mt'è. 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 Prendiamo sta roba C'è Rabadon io finalmente Senna Fa qualcosa pensa adesso Ormai farà qualcosa C'è solo 3 item Shredda la mer Shredda la Non puoi vedere Singed è sicuro un po' più utile di quest'altro Almeno di Yorick Almeno da CC Mi serve non dovete bucurarmi qua quella è morta non è morto ma quasi non è morto non è morto non è morto mi serve la voice stop a me adesso giusto non c'è più lo stop o c'è eldre pure per il prossimo fight che è super good non c'è più Fasso, baiam. ... ... ... ... andiamo a prenderci pure ad ora però buona questi cazzo prendiamoci solo il Drey questo game sta andando molto molto per le lunghe 1800 ancora un bel poque se no ormai c'avrà 200 staff e quante stack c'ha? 101 tra un po' arriva il 100% crit solo quei stack no no Grazie a tutti Grazie a tutti C'ho un pavore che c'è di ritretto questo Grazie a tutti Grazie a tutti Perché abbiamo una siege comp e abbiamo trovato prima Adesso c'è il secondo trovo Ok sono full build adesso Più è così Non faccio Grazie a tutti Grazie a tutti Saluto per che ti sta guardando Saluto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti